Evento tragico scuoterà Europa dopo elezioni europee di giugno 2024 Questa profezia è stata donata da Gesù stesso a una veggente bulgara, e le sue parole risuonano con un avvertimento urgente per tutti noi. Si descrive un'estate piena di rivolte in vari stati europei in seguito alle elezioni che avverranno a giugno 2024. Vediamo di capire cosa potrebbe accadere e cosa fare per evitare che quello che è scritto accada. Leghiamo la profezia. Con un cuore pesante e pieno di preoccupazione vi parlo di un evento tragico che scuoterà l'Europa poco dopo le elezioni europee di giugno 2024. Le nostre strade saranno invase da sommosse e le città che una volta erano centri di pace e prosperità bruceranno nell'incendio della discordia e della disperazione. L'atmosfera sarà carica di tensione e angoscia mentre le strade risuoneranno del clamore delle masse in tumulto. Le vetrine dei negozi verranno infrante, le auto bruciate e gli edifici pubblici devastati dalle fiamme della rabbia e della frustrazione. In mezzo al caos e alla confusione, molte vite umane saranno in pericolo. Persone innocenti si troveranno intrappolate tra le linee di fuoco, mentre le forze dell'ordine lottano per mantenere un minimo di controllo su una situazione che sembrerà sfuggire loro di mano. Questo non sarà solo un momento di sconvolgimento sociale, ma un richiamo urgente alla nostra coscienza collettiva. Pregate affinché la luce della speranza possa ancora brillare nel buio di questa crisi. Che la saggezza e la compassione possano guidarci attraverso le tempeste che ci attendono e che possiamo emergere da questo periodo di tribolazione più forti e più uniti di prima. Il futuro dell'Europa pende ora su un filo sottile, ma insieme e pregando, potete tessere una trama di pace e rinascita. Il futuro dell'Europa pende ora su un filo sottile, ma insieme e pregando.